Ciao a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Edoardo Guerrini con Il Lago Verde, pubblicato dalle mezzelane edizioni per la collana Enigmi. Adesso vi leggo la trama. La superficie verde di un lago di cava, annidato nella pianura risicola piemontese, nasconde segreti inconfessabili. Ettore Esposito, commissario capo della polizia provinciale, inizia a sospettare che qualcosa non vada nella conduzione dell'azienda gestita da una rispettabile famiglia di lunga tradizione industriale. Che sono i veri soci di maggioranza? Dove è finito il direttore scomparso insieme alla sua amica? Luci e ombre si susseguono, riflessi sulla superficie dell'acqua possono abbagliare e confondere le idee. È amore vero quello che Angela, australiana di origini calabresi, proprietaria di un capannone pieno ceppo di rifiuti, porta in dote a Ettore, o i suoi occhi neri come Ossidiana sono troppo belli per essere veri? A questo punto mi piacerebbe leggere per voi un brano tratto dalle prime pagine dell'opera. Capitolo 1 La luna era crescente e la foschia della notte umida rendeva il suo chiarore lattiginoso. I suoi riflessi si spandevano sulla superficie dell'acqua mostrando piccole increspature che potevano fare immaginare, poco sotto il pelo del lago, le squame luminescenti della schiena inarcata di un grosso serpente lacustre. Il mostro di Loch Ness, se quel tipo di mostro esistesse e se intorno allo specchio d'acqua ci fossero state le alture che circondano la valle di Inverness, anziché risaie a perdita d'occhio, nelle immediate vicinanze visibili dalle piane circostanti enormi cumuli di terra, sabbie e ghiaia nascondevano gran parte del bacino. Pure i rumori ne risultavano attutiti, anche se, nel silenzio della notte, il rombo di un motore diesel che poteva essere confuso con quello di qualche auto che sfrecciava sulla provinciale poco lontano, non passava inosservato. Quando i due smisero di lavorare e spensero tutto, le onde si placarono, come se la schiena del serpente si fosse piano piano distesa sotto la superficie dell'acqua e lui affondasse silenzioso nella profondità della sua umida tana. Il gracidio delle rane riprese subito il sopravvento e fu come se nulla fosse successo. Mentre si avviavano verso il piazzale per raggiungere le auto, Michele ebbe un leggero brivido. «Minchia, fa ancora freddo!» «Che ti aspettavi? Siamo solo ai primi di maggio?» fece Salvo in tono asciutto. «Dici che ci toccherà ancora a lungo di fare sto travaglio di notte?» L'altro lo guardò storto. «Ci toccherà finché ci toccherà. E tu, meno domande fai, meglio è.» Michele abbassò la testa come se avesse preso uno scappellotto, poi abbozzò un sorriso. «Dai, non ti incazzare subito. Volevo solo sapere se domani me ne posso andare a ballare.» Salvo si rabbonì. «Sì, domani è sabato, non si lavora. Vedremo poi la prossima settimana cosa c'è. E semmai non sarà prima di martedì o mercoledì. Per cui a inizio settimana travagliremo soltanto di giorno. E ora andiamo a dormire.» Si diedero la buonanotte e ognuno prese la sua strada. 2. Era già sveglio almeno da un quarto d'ora. Stava lì con gli occhi chiusi a sentire i passeri cinguettare sempre più forte e a pensare. Che poi uno magari dice «che carini, che dolci!» Mentre invece loro si stanno insultando a sangue per una storia di femmine. Se ne stanno lì tra le fronde dell'acero e riempiono della loro merda il parapetto del terrazzo. Per non parlare di quello spaccapalle del merlo che col suo tuc 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 ha iniziato a raspare nei vasi e mi butta tutta la terra in giro. In quel momento suonò la sveglia. «Cazzo, è pure lunedì!» Infine aprì gli occhi, stropicciandosi lì con le dita. Le sei meno cinque ed è giocchi aro. «Sembrava una bella giornata», prometteva sole. Aria limpida verso superga e un bel rosa sopra le montagne ancora coperte di neve. La primavera è stata abbastanza fredda finora, alla faccia del cambiamento di clima. Si vestì, poi andò in cucina e cominciò a preparare la solita colazione. Un bicchiere di latte tiepido con i biscotti e caffè nero alla fine, per non rovinarsi il gusto. «Porca miseria, il latte è finito! Si può sapere che razza di imbecille sono diventato! Rincoglionimento dovuto all'età? È evidente!» Decise che si sarebbe accontentato di un biscotto intinto nel caffè, che avrebbe preso qualcosa al bar più tardi, a Novara. Non aveva molto tempo. Lasciò la tazzina sporca nell'acquaio, prese la bici dall'ingresso, la portò giù per le scale e si mise a pedalare rapido. Non c'era ancora nessuno quasi in giro. Il marciapiede del ponte della Gran Madre era tutto libero. Il fiume era spettacolare a quell'ora, con il sole dietro al monte dei Cappuccini. Non aveva però tempo per fermarsi ad ammirare il paesaggio, così come non poteva indogiare sulle geometrie all'adechirico di Piazza Vittorio. Per quanto avesse dotato la bici di un lucchetto a prova di tenaglie d'acciaio, preferiva di gran lunga lasciarla a Porta Susa che a Porta Nuova. E poi, così facendo, guadagnava dieci minuti. La ciclabile di Via Principe Amedeo era solo una striscia disegnata sull'asfalto. Meglio che niente, pensò. Meno male che comincia a esserci un po' di luce. Qualche tempo prima, infatti, quando a quell'ora era ancora notte fonda, all'improvviso si era trovato davanti un cretino che camminava in mezzo alla strada. E si era pure incazzato il cretino, visto che il fanale davanti non funzionava. Aveva anche ragione, in verità. Una dozzina d'anni prima, due mesi passati a studiare, tra le altre cose, anche il codice della strada. Poi un concorso vinto a pieni voti da vice commissario di polizia provinciale. Dopo sette anni il grado di commissario. Da tre, quello di commissario capo. Sai che roba, diceva alzando le spalle, pensando ai 90 euro in più al mese. E dopo tutto questo, a Torino, Ettore Esposito se ne va in giro con la bici coi fanali rotti. Pensò divertito. Bene, spero di essere riuscito a incuriosirvi. Se deciderete di tuffarvi fra le pagine della nuova opera di Edoardo Guerrini, buona lettura! Noi ci vediamo presto con un nuovo episodio della narratrice di sogni. Ciao!